Con la Francia dobbiamo banalmente far valere i nostri diritti. La Francia è una nazione che in questi anni ha avuto nei nostri confronti un atteggiamento predatorio, predatorio verso la nostra economia, predatorio verso le nostre imprese, predatorio verso i nostri confini. È una nazione che ha delle enormi responsabilità nel dramma migratorio che arrivano dalla guerra in Libia, che fu fatta per interessi francesi contro gli interessi italiani e quindi è una nazione che sicuramente ha molto di cui farsi perdonare. Non credo che dovrebbe rimanere così colpita dal fatto che oggi l'Italia chieda conto di alcune di quelle scelte.